Qui invece facciamo una squadra di calcio, ci vuoi venire a giocare a calcio? 15 anni che i bambini delle fate sono in tutta Italia, adesso grazie al lavoro che abbiamo fatto a Sarno, grazie a Giussi che è la nostra rappresentante qui, siamo riusciti a creare il primo progetto finanziato. Essere qua oggi a Sarno, a Sarno siamo, provincia di Salerno, la provincia di Salerno. Sto cercando di portare un nuovo sociale, non fatto di occasionalità di donazioni ma strutturato coinvolgendo le aziende del territorio, i privati del territorio e quello che io dico è che se 30 persone si mettono insieme, danno un'ora a testa, forse prendiamo un ragazzo che ha avuto delle difficoltà e lo portiamo in un altro mondo. Questi sono soli, sono lasciati così, invece socializzare lo sport, creare attorno una risorsa finanziaria che permetta anche di fare dei progetti per loro è quello che stiamo portando in tutti. State creando una vera e propria rete, lo fate anche attraverso questa idea di sporchiamoci le mani. Quanto è importante che le persone si avvicinino a livello anche sociale ad una progettazione che sembra complessa ma in realtà con l'aiuto di tutti si riesce a concretizzare? Molte persone si rivolgono all'istituzione, al Presidente, allo Stato, a Dio che gli aiuti a fare qualcosa ma né Dio né lo Stato né nessuno può avere la bacchetta magica per risolvere tutta la disabilità che c'è. 500.000 ragazzi solo con autismo e pensiamo alle altre anche disabilità. No, la soluzione è un'altra, è che se ognuno di noi invece di protestare verso l'alto si guarda le mani e fa qualcosa, una piccola cosa, un'ora al giorno, un piccolo contributo, l'1% del suo tempo, dei suoi incassi, li dedicassi al sociale, dei ragazzi che gli stanno attorno, allora si cambieremo il mondo, risolveremo il sollievo alle famiglie, l'inserimento sociale, tutte le cose che si dicono e poi non si fanno. Nel piccolo lo stiamo facendo concretamente, poche parole e fatti. La solitudine delle famiglie in questi casi, come si combatte stando insieme? Io credo che la risposta è già nello sporcatevi le mani. Se c'è in un quartiere, in una via, in un palazzo, c'è una famiglia, un ragazzo che ha delle difficoltà, se ognuno degli altri abitanti di quella via del palazzo dedica un giorno al mese, un minuto del suo tempo al giorno per questa famiglia, con tante briciole diamo il pane a chi ne ha bisogno. E ci sono ragazzi che si sono presi indietro non per colpa loro. E quindi chi è più fortunato dovrebbe dire bene, 99% del mio tempo penso per me, perché è giusto che sia così. Ma se tutti pensassero l'1% a chi si è preso indietro, abbiamo socializzato, abbiamo fatto l'integrazione sociale, abbiamo fatto l'inclusione sociale di cui tanto si parla. E lo sport è un'inclusione speciale in questo senso? Cosa devo dire? Io che ho fatto sport tutta la vita, noi che giriamo in moto, io mi sono spaccato le ginocchia a giocare a calcio, sì, lo sport è una delle cose principali della vita. Lo sport, l'amicizia, l'amore, bisogna parlare anche l'amore di questi ragazzi, non è che ne hanno meno bisogno di altri. Stiamo facendo un progetto meraviglioso con i ragazzi che giocheranno a calcetto, i ragazzi come te. È merito di questo centro, La Filanda. La Filanda. La Filanda. Sì. Come si chiama? Tiva La Filanda. La Filanda, il centro che è con noi, che si sporca le mani con noi. Ti diciamo grazie. Grazie. Ti bella filanda e grazie. Sognando un gol, questo è un progetto importantissimo che state portando avanti, vicino alle famiglie, vicino ai bambini, vicino ai ragazzi, è un'integrazione davvero a 360 gradi. Sì, perché noi facciamo comunque parte del progetto, facciamo far parte tutta la famiglia, quindi l'intero nucleo familiare, come dico io, non è autistico nostro figlio, ma la nostra famiglia. Quindi questa cosa aiuta tanto i genitori che vogliono far parte di un progetto reale. La scuola calce è il nostro sogno. Questo progetto parte soprattutto dall'aiuto e dalla collaborazione. Voi state puntando tanto su questo con qualcosa davvero di molto carino. Sì, sporcatevi le mani. Che praticamente, che cosa significa sporcarsi le mani? è donare, donare meno di un caffè al giorno, che a volte è una goccia, però tante gocce formano un mare, un oceano. Quindi con qualsiasi persona, qualsiasi azienda, qualsiasi attività, può diventare sostenitore di Sognando un Gol, donando mensilmente e costantemente una piccolissima cifra. Voi siete la mamma e il papà di Ciro. È un'avventura che nasce da lontano. Siete una famiglia tanto sorridente, ma anche tanto combattiva. Sì, noi combattiamo con il sorriso. Noi invece di piangere, infatti le famiglie non mi hanno mai vista piangere, loro dicono perché? Perché a piangere non si risolve niente. Invece con un sorriso puoi dare la carica agli altri a dire però si può essere felice anche vivendo una disabilità. Sì, dandoci da fare. Partite dalla collaborazione con i bambini delle fate e anche con la Filanda di Sarno. Che cosa è nato e che cosa nascerà ancora? Allora, è nato già un progetto Insieme Si Può che comunque coinvolge oltre 50 famiglie di tutto il territorio campano. E sono laboratori che vengono fatti in struttura qui in Filanda e sono totalmente gratuiti per le famiglie. Grazie alla collaborazione con la dottoressa Nilde Renzullo e grazie a Simone Zulli che è il responsabile sportivo abbiamo creato la prima scuola calcio e quindi questo e sognando un gol sarà il sogno che ogni bambino riuscirà a fare un gol grazie a tutti noi. E se parliamo di calcio facciamo parlare anche il papà allora questo sognando un gol lo sogna anche un po' il papà. Sì, sì, diciamo che l'idea è partita da me. essendo papà di un figlio maschio dal primo giorno che ho avuto un figlio maschio immaginavo, sai, egoisticamente pure immaginavo una carriera a livello nazionale sognando magari quel gol in una finale di un mondiale poi è arrivata la Batosta, suo figlio autistico allora mi sono detto non piangiamoci addosso, Giussi cerchiamo di creare la sua nazionale a Ciro Ciro merita questo e tanti bambini come Ciro meritano questo. Simone Zulli responsabile del progetto si parla di sport, si parla di integrazione si parla di inclusione qui alla Finlanda? Sì, nel panorama delle attività sportive insomma il panorama viene arricchito da un nuovo progetto il progetto di Sognando un Gol progetto in partnership con l'associazione Insieme Si Può che si pone ad arricchire è il nostro panorama di attività sportive per i ragazzi diversamente abili un progetto davvero ambizioso insomma che sta richiedendo un enorme sforzo da parte delle associazioni da parte della struttura e soprattutto di tutto il territorio progetto completamente dedicato all'autismo in cui ogni bambino potrà sognare di diventare un calciatore Qui state puntando tanto proprio sullo sport c'è una polisportiva ci sono tanti luoghi proprio dedicati a tanti sport per ragazzi e per bambini Sì, le attività che si avvicendano nell'arco della giornata sono diverse partiamo dalla pallavolo al calcio, al mini basket il karate tutte queste attività sono inclusive abbiamo delle attività completamente dedicate a bambini e a ragazzi diversamente abili e attività insomma che vedono inclusività di movimento, di gestione stiamo lavorando affinché tutti possano prendere parte alle nostre attività e affinché l'attività sportiva possa essere veramente un veicolo di inclusione sociale